Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con l'Uni Allora ragazzi, quest'oggi penultima puntata di questa prima stagione almeno si spera perché siamo in piena corsa per salire in Ligan però non si sa ancora se riusciremo a passare senza il playoff oppure saremo costretti ad affrontare questi spareggi e quest'oggi per evitare tutto ciò bisognerebbe fare tre belle vittorie in queste tre partite contro Tolosa, Nim e Nancy che non sono per nulla semplici, soprattutto la partita contro Nancy quindi raga mi raccomando forza e coraggio e cerchiamo di fare questa impresa perché per come siamo partiti riuscire ad essere promossi direttamente è un'impresa secondo me ma come al solito raga prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e poi continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio o consiglio per prestità e anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione detto ciò raga possiamo e dobbiamo andare in campo vi ricordo che l'ultima partita è arrivata una sconfitta dopo tantissimo tempo però siamo stati fortunati e anche le nostre avversari hanno perso quindi restiamo sempre al primo posto in classifica quest'oggi partiamo contro i Tolosa ci sono dei cambi, una formazione un po' spezzata tra rigolette fra titolari e sostituti perché come avete visto fra due giorni c'è il Nîmes quindi Godard sempre fa i pali poi Barcon, D'Isle, Cook, Maitson, Blanchet, Ranks, Meibri, Garbi, Ricky Jones e Virginius è sicuramente una squadra che può puntare a battere il Tolosa raga occhio qui al clamoroso palo colpito da Tolosa grandissima chance per sbloccare subito la partita raga occhio a Tolosa, palla dentro ragazzi è un gol assurdo lì con le coq avevo coperto ero andato addosso al giocatore ma come se fosse passato attraverso e puntualmente quando capitano queste cose poi arriva sempre il gol dei nostri avversari e niente ragazzi termine il primo tempo 1-0 per i Tolosa all'intervallo il gol è arrivato in modo un po' strano però sta di fatto che noi non abbiamo fatto nulla quindi sicuramente ci serve una svegliata soprattutto perché il Dijon è in vantaggio sulla Giaccio e l'Oxair sta pareggiando perdere oggi vorrebbe dire non essere più in vietta ragazzi o Ricky Jones riesce a fare un bel frittrante per Virginius che va da quell'altra parte c'è la Garbi che non si è mosso bene però raga occhio Ricky Jones che fortunato la palla resta lì esce a servire Franks che appoggia ancora Ricky perché non mi hai calciato di prima e ritorniamo sempre alla stessa storia che quest'anno non calciano mai di prima raga provo un cambio modulo 4-4 fuori Blanchet dentro Lan per la doppia punta poi dentro Busquet per avere un C o C in più sto usando il mio classico modulo mega offensivo quindi ovviamente fuori Meibri e poi in campo anche Braff al posto di Virginius no raga è stato spulso le coq cioè per quel... no ragazzi no 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 cioè io non ci avevo manco fatto caso l'appellato ho premuto subito il tasto per andare avanti appunto perché mai a credere che per un fallo così deve essere un doppio giallo il primo giallo l'ha preso giustamente però ragazzi l'ha calciato fuori per questo fallo vabbè ragazzi oggi è imbarazzante FIFA raga ma noi proviamoci lo stesso Busquet prova ad andare dentro Dalhan questo non è fallo raga hanno fatto una partita difensiva loro impressionante non ha senso veramente mai visto una difesa così forte ogni filtrante tutti i filtranti che ho fatto li hanno intercettati tutti tutti una vergogna ragazzi veramente una partita vergognosa non voleva farci stare i primi FIFA è evidente dopo una partita come questa qui cioè dopo che veniamo ovviamente da una sconfitta però in precedenza da buone prestazioni non è possibile che la squadra si comporti così casualmente appena passiamo al primo posto e dobbiamo difendere il primato iniziamo a perdere ok puntualmente siamo scesi subito al terzo posto in classifica però occhio guardiamo i risultati delle altre avversarie perché il Dijon alla fine ha pareggiato ha vinto però l'Auxerre che balza al primo posto in classifica perfetto la prossima partita è contro il NIM ora ci faranno perdere anche contro il NIM così rischiamo addirittura i playoff ok ragazzi adesso dobbiamo andare in campo alla fine possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno di dire che siamo a un punto dal primo posto a pari merito con la seconda in classifica quindi siamo sicuramente lì però è evidente che oggi si decide tutto se malauguratamente oggi non riusciamo a portare a casa nessun punto è la fine probabilmente comunque raga chiaramente scendono in campo i ragazzi che non hanno giocato nella partita precedente quindi a parte Godard sempre fra i pali abbiamo Leblonde, Carboni, Du Chardin, Sique, Weber, Fofana, Busquet, Moreira, Lan e Jeden Braff che è diventato anche un 70 raga occhio subito Jeden Braff che è un po' di campo provate ad avanzare Jeden Braff e vede l'insurimento di Lan bel pallone di Braff Lan va in porta Lan che tiro di una bruttezza rara raga occhio al NIM qui che prova a rispondere gran parata di Godard raga occhio ancora Godard qui gran parata come al solito il nostro portierone quest'oggi anche capitano ci tiene a galla raga occhio Jeden Braff occhio che oggi sembra particolarmente in palla Jeden Braff andiamo un po' Jeden Braff nessuno che si muove come Cristo comanda qui grandissimo Weber è la palla dentro per l'Anne è tutto regolare non è fuori gioco qui ottimo destro nel nostro centro avanti che sbatte la palla in porta 1-0 qui riguardiamo l'ottima azione da parte di Braff che si accentra poi il tocco per Weber bene pensavo forse Buschè invece era Weber bellissimo il passaggio per l'Anne che non è in fuori gioco e col destro batte il portiere e ci porta in vantaggio raga occhio al Nîm che prova a rimettere la gara in pareggio ma ancora Godard ancora con i seguantoni che mette tutto a posto ma occhio al corner palla dentro Siche sulla linea qui Godard era stato battuto bravissimo Siche faccio che possiamo ripartire Buschè per l'Anne che va da quell'altra parte pensate e ok raga termina anche il primo tempo 1-0 all'intervallo sul nostro unico tiro in porta praticamente il Nîm tutto sommato ha fatto la partita però noi siamo stati estremamente cinici e con l'Anne abbiamo sbloccato la partita e occhio risultati all'intervallo vediamo se ci sono sì scontro diretto Xer Dijon perché nessuno mi aveva avvertito di questa cosa 0-0 all'intervallo oggi è troppo importante vincere quindi raga questo vuol dire che casualmente nella stessa giornata si affrontano la prima la seconda la terza e la quarta fantastico guardate il destino a volte che è capace di regalarci queste emozioni uniche queste casualità dettate dal destino e dal fato la goccia qui vale in avanti è buona Lan è più veloce di tutti e può sfruttare la sua grande velocità Lan Lan ti prego Lan è un gol pazzesco Jack Lan 2-0 l'abbiamo raddoppiata doppietta del nostro centravanti riserva paradossalmente di Ricky Jones qui volevo rivedere il passaggio il fittrante di chi era perché era un passaggio un po' insperato non mi aspettavo che andasse così a buon fine però questa volta siamo stati fortunati e Lan non ha sbagliato doppietta raga occhio qui Godard e occhio ancora il NIM che non demorde ragazzi Godard quest'oggi è una sala cinesca raga occhio Moreira può pensare Moreira prova le finte Moreira asperto il movimento di Lan che arriva Lan va per la tripletta va per la tripletta ma tira troppo centrale qui arriva la parata del portiere qui doveva essere più cinico più incisivo ma occhio al corner Weber il cross su Carboni non era male Weber vai vai perché non mi seleziono automaticamente Weber chi può andare su quella palla se non Weber occhio qui balli tocco dentro Moreira l'appoggio ancora la palla è lì pasticcio e fallo lì ragazzi e fallo netto del portiere su Lan quello è il rigore quasi rosso per i portieri in questi casi e perfetto raga arriva anche il fischio finale 2-0 vittoria convincente ma fino a un certo punto perché NIM ha avuto tante chance diciamo convincente per Godard soprattutto che ha fatto veramente grandissimi interventi comunque era troppo importante portare a caso i tre punti oggi infatti anche le statistiche sono abbastanza emblematiche e occhio vediamo 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 uno a uno risultato migliore per noi non poteva esserci e ok raga adesso prima di andare ad affrontare il Nancy penultimo in classifica occhiata doverosa alla classifica 60 punti torniamo al primo posto in classifica dopo averlo perso più uno rispetto all'Oxair più due rispetto al Dijon alla fine vi ricordo sempre che i primi due posti valgono la promozione diretta il terzo quarto e quinto ovviamente sono i playoff che funzionano in un modo un po' particolare in pratica io penso che Paris e NIM in questo caso diciamo se i playoff ci fossero oggi si affronteranno chi vince va contro il Dijon che poi va ad affrontare la diciottesima della Ligan o qualcosa del genere oppure può essere che il NIM affronta la diciottesima della Ligan e Dijon e Paris si affrontano a sua volta non so come funziona cerchiamo di non scoprirlo perché se lo scopriamo vuol dire che ci andiamo noi a farli quindi cerchiamo di no comunque raga adesso andiamo in campo Nancy contro un I ovviamente riscendo in campo con la stessa squadra che ha perso contro il Toloso sono stato costretto perché erano ancora tutti troppo troppo stanchi quindi Godard Barcon Di Isle Koch Metson Blanchet Franks Meibri Garbiri Kijons e Viginus piccola cosa noto in porta Trott portiere di un Nancy ma fa che il Trott che è del West Ham può essere raga occio Garbiri vedi da quell'altra parte la palera per Viginus ma è comunque buona per Rikki 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 col sinistro la palla respinta vai Viginus perché si è spostato in quel modo strano comunque calcio d'angolo è grandissima chance per sbloccarla Rikki Jones la mette fuori la coccio Rikki Jones prova dal Zalla molto bene Vranx col sinistro a volo è un gol bellissimo Aster Vranx siamo in vantaggio col suo mancino delicatissimo anche se in realtà sarebbe il suo piede debole qui bellissimi tocchettino sotto di Rikki Jones e Vranx che non fa manco rimbalzare la palla a terra va direttamente in porta col sinistro vedere qui di collo praticamente anche se sembra che l'abbia preso con la caviglia praticamente comunque 1-0 la sblocchiamo Aster Vranx terzo gol in campionato per il nostro grandissimo centrocampista che l'è in mezzo continua a fare sempre una differenza enorme e ok raga termina anche il primo tempo 1-0 all'intervallo per noi per il momento stiamo giocando un'ottima partita però occhio al Nancy che sicuramente ci renderà la vita complicata nella ripresa occhio che sia il So Show scusate sia il Dijon che l'Axair non giocano con noi peccato raga occhio meibri meibri l'appoggio è buono ricky 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 vedi 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 vicinus vicinus vai dentro meibri aveva calciato di prima occhio che brutto errore meibri 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 dai su raga occhio che ormai è finita la partita bene così 0 a 1 riusciamo a battere innanzi partita estremamente complicata scorbutica nel secondo tempo abbiamo sbagliato di nuovo tutti i passaggi non passava veramente un filtrante però alla fine siamo riusciti grazie a quel gol del primo tempo a portare a casa una vittoria fondamentale occhio raga attenzione il Dijon ha giocato e si è fermato 35 giornate anche per loro vediamo contro chi hanno giocato hanno giocato in anticipo non ci avevo fatto caso hanno perso 0 a 1 in casa contro i Gangamp quindi adesso abbiamo 5 punti in più rispetto all'oro rispetto al terzo posto adesso è importante vedere che cosa fa l'Oxair che gioca contro i Cannes il 25 aprile ovvero fra un giorno quindi andiamo avanti andiamo facciamoci un attimo l'allenamento facciamo tutti insieme hanno giocato e hanno vinto quindi per il momento siamo l'Uni e l'Oxair primi e secondi con un buon vantaggio rispetto al terzo posto buon vantaggio per essere a tre giornate dalla fine intendo e quindi raga adesso tre partite Pau Cannes e il Dunkirk quindi raga tre squadre che teoricamente possiamo battere forza ragazzi allora due vittorie e siamo certi al 100% di essere promossi in Ligan direttamente senza i playoff vincere tutte e tre vorrebbe dire essere anche i primi perché adesso sarà uno scontro ad uno ad uno con l'Oxair però noi ragazzi mi raccomando pensiamo all'obiettivo per volta se riusciremo ad essere promossi erittimeticamente è il primo obiettivo poi solamente a quel punto penseremo anche a vincere il campionato poi se noi riusciamo a vincere il campionato ma riusciamo a fare il secondo posto sono felicissimo comunque perché era sinceramente molto complicato e quindi mi ritrovo sicuramente soddisfatto della mia squadra a prescindere però è chiaro che noi punteremo a massimo però ovviamente vedremo tutto nella prossima puntata puntata finale della prima stagione a cui non potete assolutamente mancare quindi vi do appuntamento al prossimo episodio vi invito a lasciare un like un commento ma soprattutto a riscrivervi al canale e a seguirmi sulla pagina Instagram noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ciao